Bassano perde il controllo della micra che sta guidando, finisce contro un muro di recinzione e resta incastrata tra le lamiere. È successo attorno alle 4.30 della scorsa notte in via Valsugana a San Vito. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno estratto la conducente dall'auto, la donna è stata trasportata al San Bassiano. Per lei fortunatamente solo qualche botta sul posto per i rilievi carabinieri. A Mussolente abitava, a Bassano spacciava. Arrestato dai carabinieri di via Emiliani, grazie all'indicazione di alcuni giovani, José Miguel Difocalcano, 21enne dominicano. L'uomo, fermato in quartiere 25 aprile, alla vista dei militari è sembrato molto nervoso. Negli slip aveva nascosto infatti alcune dosi di cocaina. È scattata la perquisizione domiciliare e qui, oltre alla droga, sono stati trovati più di 2.000 euro in contanti. Stamattina il rito direttissimo ha patteggiato sei mesi di reclusione e 1.000 euro di multa con pena sospesa. Rinviato a giudizio un kosovaro di 33 anni per aver inghiottito la compagna in un inferno di violenza durato anni. Una convivenza terribile per la donna, sua connazionale costretta a sottostare a ogni decisione del marito, che in più occasioni l'avrebbe minacciata di morte e picchiata, costringendola alle cure del pronto soccorso. Ma la donna non aveva mai trovato la forza di denunciare il suo guzzino. Finalmente ora l'uomo dovrà rispondere del suo comportamento davanti al giudice. Bassano, una toccante cerimonia per ricordare Luca Russo, questa mattina con la consegna delle borse di studio, intitolata all'ingegnere bassanese ucciso a soli 25 anni nell'attentato di Barcellona il 17 agosto 2017. Un riconoscimento agli studenti più meritevoli del Brocchi, un segno per andare oltre al dolore della perdita di un giovane fratello ucciso dall'odio e lanciare un messaggio di speranza proprio ai ragazzi. Presente anche Marta, la fidanzata di Luca, sopravvissuta all'attentato. E momento di particolare emozione la consegna ai familiari di Luca di tutti i suoi documenti scolastici. E' giusto andare per dire vedere...